Andrea Ecclesi è Presidente di Friendsbike un invito ai brindisini in bicicletta e non affinché accorrono massicci o meglio martedì 23 dicembre alle 18 presso il piazzato della stazione allora venite tutti quanti ci sarà divertente facciamo una bella pedalata contro questo Natale più serio Natale sulle biciclette prendete questa bicicletta e auguriamoci Buon Natale ragazzi sul via basta con queste macchie questo è l'homberico del mondo questo è l'homberico del mondo è qui che si incontrano facce strane di una bellezza un po' disarmante pelle di emano di un padre indigene occhi smerato come il diamante facce emetisce di razze nuove come il millenio che sta iniziando e questo è l'homberico del mondo e noi stiamo già ballando questo è l'homberico del mondo oh l'homberico del mondo questo è l'homberico del mondo dove non si sa dove si va a finire e risalendo dentro se stessi alla sorgente del respirare è qui che si incontrano uomini nudi con un bagaglio di fantasia questo è l'homberico del mondo senti che sale questa energia questo è l'homberico del mondo oh l'homberico del mondo questo è l'homberico del mondo questo è l'homberico del mondo questo è l'homberico del mondo è qui che c'è il posto dell'immaginazione dove convergono le esperienze e si trasformano in espressione dove la vita si fa preziosa e il nostro amore diventazioni dove le regole non esistono esistono solo le eccezioni questo è l'homberico del mondo è l'homberico del mondo questo è l'homberico del mondo è qui che nasce l'energia centro nevralgico del nuovo mondo da qui che parte ogni nuova via dalle province del grande impero sento una voce che si sta alzando questo è l'homberico del mondo e noi stiamo già ballando questo è l'homberico del mondo 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 è lhomberico 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 del mondo A presto 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 A presto